Campania vaccinare ad oltranza fino all'annunciata carenza di dosi. Registro di alisi e trapianto reni, in campania ancora non pienamente operativo, la sollecitazione del consigliere Pellegrino. Serre, due piantagioni di cannabis sequestrate dalla Guardia di Finanza, 470 piante in totale in due diversi appezzamenti. Sala Consilina alvia le iscrizioni al centro estivo, restate insieme 2021. Teggiano, domenica 27 al Castello Macchiaroli, la Corte delle Fiabe, divertimento e giochi per ripartire, prenotazione con messaggi whatsapp al numero 327 2540 679. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Campania, l'obiettivo è quello di vaccinare quante più persone possibili fino a quando non vi sarà a luglio l'annunciata contrazione della consegna delle dosi. Vediamo i dettagli. Vaccinare ad oltranza, quantomeno finché ci saranno le dosi. Anche ricorrendo agli Open Day, come deciso a Napoli, bisogna accelerare, soprattutto con le prime inoculazioni. Seconde dosi necessarie, non solo per chi ha ricevuto la prima puntura con Pfizer o Moderna, ma anche per coloro che in prima battuta sono stati vaccinati con AstraZeneca e ora possono soffruire del mix di vaccini con la seconda dose di Pfizer. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, sono queste le indicazioni emerse dal vertice che si è svolto ieri in unità di crisi regionale con i direttori generali delle sette ASL campane. Bisognerà riorganizzare il piano vaccinale regionale nel mese di luglio e di agosto. Considerate le dosi che mancheranno a partire dal prossimo mese a causa di un'annunciata contrazione delle consegne e quelle che invece serviranno in aggiunta per coprire richiami eterologhi tra Astra e Pfizer. In attesa di comunicazioni ufficiali dal Ministero, l'attività sarà dunque concentrata sulle seconde dosi da somministrare entro 42 giorni dalla prima puntura per Pfizer ed entro 8-12 settimane dalla prima inoculazione di AstraZeneca. L'unica certezza è che serviranno tante dosi di Pfizer. In campagna non è ancora pienamente operativo il registro di alisi e trapianto rene, una necessità per il consigliere Pellegrino che presenta una interrogazione. I dettagli nel servizio. Mantenere i registri regionali aggiornati e ben regolamentati potrebbe rappresentare un fondamentale supporto nella cura e nel monitoraggio di specifiche patologie. Tra i registri su cui la Regione necessita di intervenire attraverso anche l'emanazione di apposita regolamentazione il registro di alisi e trapianto rene che pare non sia ancora pienamente operativo in Regione Campania. Ad intervenire in merito il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che spiega come l'apposito registro per un monitoraggio ed una valutazione attenta dell'evolversi delle malattie renali ad oggi non è ancora pienamente operativo in Regione a causa della mancata adozione di un regolamento attuativo necessario per la sua operatività. I registri di patologie vengono oggi considerati fondamentale risorsa clinica anche nell'ambito delle cure necessarie e degli interventi da eseguire rivelandosi quindi importanti anche per sostenere il progresso e la ricerca su particolari tipi di patologie anche gravi e per aiutare i pazienti nel decorso della malattia. La loro funzione spazia dalla registrazione che ne consente il monitoraggio sul territorio passando per la prevenzione ed anche per consentire nuovi approcci terapeutici. Da qui l'interesse del consigliere regionale sassanese che ha presentato un'interrogazione con l'obiettivo di sollecitare l'adozione da parte della Regione Campania dello strumento particolarmente utile a tantissimi pazienti e indispensabile per una corretta programmazione e pianificazione sanitaria. L'effettiva operatività del registro dialisi e trapianto del rene ha precisato Pellegrino avrebbe riflessi positivi in termini di assistenza e monitoraggio verso i pazienti dializzati e consentirebbe soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo di individuare con accuratezze casi clinici che consigliano un potenziamento dell'assistenza dialitica domiciliare evitando al tempo stesso una sovraesposizione al contagio da Covid-19 da parte dei soggetti fortemente immunodepressi. Ora la cronaca. I militari della Guardia di Finanza hanno posto sotto sequestro 470 piante di cannabis rinvenute in due distinte piantagioni nel territorio di Serre una maxi-operazione che ha portato all'arresto di tre persone colte in flagranza di reato. I dettagli. Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno con conseguente sequestro di 470 piante di cannabis. Arrestati in flagranza i tre responsabili nel corso dei normali servizi di controllo economico del territorio i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno scoperto due vaste piantagioni di cannabis sottoponendo a sequestro complessivamente 470 piante. Con un primo intervento presso un'azienda agricola di Serre le fiamme gialle della compagnia di Eboli hanno rinvenuto 220 piante di una particolare tipologia di canapa indiana, la cosiddetta autofiorente nana caratterizzata da una fioritura molto veloce e dalle dimensioni ridotte. denunciando i due presunti responsabili. Un analogo risultato è stato poi conseguito in un'area demaniale lì vicina in prossimità della quale i militari avevano notato un'autovettura sospetta accostata lungo il ciglio della strada provinciale 317. Dopo aver pedinato i tre soggetti scesi dall'auto la pattuglia è arrivata nel punto in cui si estendeva una seconda coltivazione di marijuana nascosta dalla fitta vegetazione con ulteriori 250 piante alte anche 2 metri. Durante il sopralluogo è stato rinvenuto, ben occultato tra gli arbusti, un ingegnoso sistema di irrigazione ricavato mediante una motopompa che raccoglieva l'acqua direttamente dal vicino sele con un generatore di corrente alimentato a gasolio. I responsabili, colti in flagranza di reato, sono stati subito fermati anche grazie all'ausilio di una seconda pattuglia di finanzieri intervenuta sul posto dopo che i tre avevano tentato la fuga. Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno che li ha chiamati a rispondere del reato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono stati condotti presso la casa circondariale di Forni. Inoltre, tramite la targa del veicolo intercettato gli investigatori sono risaliti anche all'uomo alla guida a sua volta denunciato in concorso. Le piante sequestrate, in totale 470 e tutte in ottimo stato di maturazione avrebbero fruttato oltre 400 mila euro con la vendita al minuto del prodotto finito. Gli interventi conclusi dei finanzieri di Eboli testimoniano l'attenzione e l'impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti intervenendo anche nelle prime fasi della produzione. Un 27enne domiciliato a Sala Consilina è stato arrestato per rapine e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo a Napoli, nella zona di Forcella, in corso Umberto I, ha spinto con violenza una donna e poi le ha strappato il cellulare scappando via. La scena è stata notata da un poliziotto libero dal servizio che ha inseguito e raggiunto l'uomo bloccandolo con il supporto di una pattuglia del commissariato Vicaria Mercato. Un primato negativo in Campania è la regione italiana dove costa di più la manutenzione delle autovetture. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. La pandemia ha modificato leggermente i costi di manutenzione di un'auto in Italia. Nel 2019 il costo medioannuo per il mantenimento di una vettura si attestava sui 1.600 euro mentre nel 2020 questa cifra è scesa fino a 1.492 euro. Su questa cifra una delle componenti con il peso maggiore è rappresentata dal carburante che incide mediamente per circa 775 euro mentre per l'assicurazione occorrono in media 532 euro. Tuttavia questi dati possono variare anche in maniera considerevole in base alla regione nella quale si ci trova a vivere. La migliore sotto questo punto di vista è la Valle d'Aosta che nel 2020 ha registrato un costo medio di 1.240 euro. Quella più cara per il mantenimento di un'auto è stata invece la Campania con un prezzo medioannuale che è arrivato fino a 2.032 euro. La nostra regione poi detiene la maglia nera dei costi assicurativi con una media di 1.505 euro ovvero il 50% della spesa complessiva di mantenimento dell'auto. Un primato poco lusinghiero indubbiamente. L'auspicio è di rientrare nella media nazionale nel più breve tempo possibile. Voltiamo pagina. Parte a Sala Consilina il centro estivo restate insieme 2021 previsto tra il 5 di luglio e il 14 di agosto. Sono aperte le iscrizioni. Vediamo. A Sala Consilina si sono aperte le iscrizioni per l'adesione al centro estivo comunale restate insieme 2021. Lo rende noto l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cavallone con un avviso nel quale si specifica che le iscrizioni si potranno effettuare entro il 30 giugno. Il centro estivo rivolto ai bambini e ragazzi residenti a Sala Consilina di età compresa tra i 3 e i 14 anni si svolgerà presumibilmente nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 14 agosto. Sono previste 6 settimane di attività programmate tutti i giorni dall'unedì al sabato dalle 8.30 alle 13. Le strutture comunali individuate dall'amministrazione sono il plesso scolastico di località Fonti per un massimo di 30 bambini i plessi di via Viscigliete e via Cappuccini e la villa comunale in via Pozzillo per tutte e tre le strutture sono previsti 50 posti ciascuno. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili spiegano dal Comune sarà stillata una graduatoria che terrà conto di alcuni criteri tra cui la certificazione di disabilità grave un valore i 6 e non superiore a 8.000 euro e bambini appartenenti a famiglie monoparentali. La domanda di adesione all'iniziativa deve essere presentata entro il 30 giugno direttamente all'ufficio protocollo del Comune oppure tramite email di posta elettronica certificata con allegati tutti i documenti necessari. Il costo del servizio spiegano ancora dall'amministrazione sarà per metà a carico dei genitori e per metà a carico del Comune. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti a tra poco. Bentornati in studio proseguiamo con il nostro telegiornale. Ha fatto tappa ieri a Assanza la quarta edizione dell'Italian Challenge. Lo stemma del Comune è stato consegnato a due motociclisti e arriverà in Germania e in Olanda. Vediamo. Tappa a Assanza ieri per la quarta edizione dell'Italian Challenge. Circa 150 motociclisti provenienti dall'Olanda, dall'Austria, dalla Germania e da diverse località del nord Italia sono stati accolti in piazza Cavour dal sindaco Vittorio Esposito, dall'amministrazione comunale, dall'azienda Cecibo, dall'associazione 3T del Cervati, la protezione civile e i guardi ambientali, i volontari del servizio civile e tanti cittadini curiosi. L'evento si è svolto nuovamente dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid. Partiti da Riccione con arrivo previsto a Maratea dopo quattro giorni di viaggio, i motociclisti hanno fatto tappa a Assanza siglando anche l'impegno formale per il prossimo anno a fare tappa sul Monte Cervati. Italian Challenge è un evento unico nella panorama motociclistico per la tipologia di percorso, con un itinerario di oltre 1200 chilometri. Il viaggio è una grande esperienza personale che permette di visitare luoghi mai toccati dal turismo e percorrere strade isolate dove è possibile percepire tradizioni e misteri di zone remote e rimaste intatte nel tempo. La sfida, basata sulla navigazione e sulla precisione dei chilometri di percorrenza, contraddistingue il Trofeo Italian Challenge. L'intero itinerario è su strade asfaltate, secondarie e altamente panoramiche con la presenza dello staff per servizio logistico, meccanico, medico e di navigazione. La carovana di motociclisti provenienti dalla strada provinciale 18B strada Rofrano-Sanza è dunque arrivata ieri a Assanza per poi dirigersi lungo la strada statale 517 verso Maratea. L'amministrazione comunale ha consegnato lo stemma del comune oltre che a Mirko Urbinati, organizzatore dell'Italian Challenge, anche ad una motociclista tedesca di Monaco di Baviera, che consegnerà il simbolo al sindaco della sua città e ad un motociclista olandese che farà la stessa cosa. Dopo lunghi mesi di stoppe di divieti, il Castello Macchiaroli torna ad aprire le sue porte ai bambini e al territorio con un evento magico dedicato al mondo delle fiabe. Domenica 27 giugno, la Corte delle Fiabe. Vediamo il servizio di Anna Maria Cava. Il Castello Macchiaroli di Teggiano domenica prossima 27 giugno torna a riempirsi con l'allegra voce dei bambini e non solo. Gisella Macchiaroli, proprietaria del castello, ha deciso di riaprire le porte dell'antica fortezza, grandi e piccoli, creando un evento di allegria e spensieratezza che prima della pandemia venivano organizzati con regolarità all'interno del maniero, anche per consentire ai piccoli in particolare di poter apprezzare la struttura come bene di cui essere fieri ed orgogliosi. A distanza ormai di due anni il Castello Macchiaroli torna a far festa e a creare allegria e divertimento grazie all'iniziativa alla Corte delle Fiabe per un pomeriggio di giochi in cui ci si stringerà intorno alla principessa assopita a causa di un incantesimo. Toccherà ai partecipanti all'evento cercare di destarla dal suo lungo sonno. A partire dalle ore 16 del pomeriggio, quindi, Gisella Macchiaroli accoglierà grandi e bambini al Castello per regalare a tutti un primo pomeriggio di divertimento e di avventura in cui sarà necessario unire le forze per salvare la fantasia e l'immaginazione che sono in pericolo. Si cerca quindi di ripartire anche al Castello Macchiaroli dopo questi mesi tristi e drammatici che hanno segnato profondamente le vite di tutti tra la paura e il sospetto, tra la perdita di socialità e le scarse occasioni di incontro, tra la voglia di tornare indietro e la speranza nel futuro. L'antico maniero, quindi, per volontà della sua proprietaria, vuole riprendere a regalare divertimento, in particolare ai più piccoli, sotto lo sguardo sereno dei genitori e, seppur nel rispetto di tutte le normative anti-covid in atto, cercare di restituire un'apparvenza di normalità a chi vorrà partecipare all'evento. La Corte delle Fiabe sarà aperta dalle ore 16 alle ore 21 e sarà ad accesso limitato solo su prenotazione. Durante l'appuntamento sarà possibile visitare l'antichissimo castello ricco di storia e in cui si sono consumati importanti eventi storici per il sud Italia. Per rallegrare l'appuntamento il maniero sarà abitato da tanti strani e particolari personaggi, mentre i partecipanti saranno coinvolti in arduo e prove che dovranno superare per salvare la principessa. Da Sala Consilina i ragazzi di Radio Lasagne Verdi in diretta da Roma hanno raccontato la loro storia e hanno invitato la ministra Dadone nel Vallo di Diano. I dettagli. Intensa giornata a Roma per i ragazzi di Radio Lasagne Verdi di Sala Consilina, ospiti dell'importante evento GENC, Generazione Changemaker, a cura dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e a Sciocca Italia, alla presenza della ministra per le politiche giovanili di Fabiana Dadone, i giovanissimi speaker di Sala Consilina hanno vissuto forti emozioni parlando del proprio territorio, della propria attività radiofonica e invitando anche la ministra nel Vallo di Diano. I ragazzi infatti sono stati scelti in rappresentanza di tutte le 101 web radio presenti sul territorio italiano e figlie del progetto ANG in radio più di prima, con l'obiettivo di raccontare la loro storia, rendendo noto il cambiamento apportato dai giovani nel territorio grazie al proprio impegno. Siamo andati nella zona di Tor Marangio, ha spiegato uno dei giovanissimi speaker, Giuseppe Auleta, dove tempo fa è stato realizzato un progetto di riqualificazione attraverso un contest di Morales. Ora l'area è un museo a cielo aperto, c'è il primo condominio al mondo in cui vivono le persone che è anche un museo. Abbiamo incontrato la ministra per le politiche giovanili e la direttrice dell'Agenzia Nazionale Giovani e alla presenza di diverse personalità politiche rappresentative di altri enti abbiamo parlato del nostro territorio e di come stiamo affrontando la sfida della radio ma anche di quali sono i benefici. Per noi è stato importante prendere parte a un progetto che dà la possibilità ai giovani dai 12 ai 35 anni che fanno qualcosa di lodevole di testimoniare il cambiamento nel territorio in cui vivono. Infine, ha concluso Auleta, abbiamo invitato sia la ministra Dadone che è la direttrice dell'Agenzia Nazionale Giovani a venire a Sala Consilina. Abbiamo consegnato loro delle forchette personalizzate con la scritta Radio Lasagne Verdi sperando di poter mangiare insieme. Non sappiamo quando ma ci hanno detto che verranno. Ora lo sport tutto pronto a Fibonati per lo stage Football Camp 2021 appuntamento allo stadio Valentino Mazzola il 28, 29 e 30 giugno. Una a tre giorni di sport aperta al pubblico in cui interverranno selezionatori di squadre di primissimo livello ed ospiti celebri. E con questo è tutto per l'appuntamento di oggi con il nostro telegiornale e grazie per averci seguito. Continuate a restare con noi e a tutti un'ottima giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.